Federica Pellegrini sarà presente alle prossime Olimpiadi 2020 di Tokyo. L'annuncio è arrivato dalla stessa campionessa azzurra. Alla fine ho capito che la sfida è con se stessi e questa scelta l'ho fatta per me, ha detto l'Olimpionica di Spinea. Non potevo smettere quello che ho fatto per una vita e finire con un ricordo così, un quarto posto, una medaglia mancata di pochissimo a Rio. Non volevo chiudere la mia carriera così. Ed è ancora la delusione di Rio 2016 quando Federica arrivò solo quarta nella sua 200 stile libero che deve essere cancellata, non con il tempo ma con una nuova prestazione. La Pellegrini ha dichiarato perciò di voler continuare a nuotare e a farlo nel migliore dei modi e la vittoria di dicembre ai mondiali in vasca corta Windsor in Canada ha contribuito in parte a cancellare quel brutto ricordo. E così tutti i progetti al di fuori del nuoto non verranno per il momento presi in considerazione, in primis la maternità. Una donna sente quando arriva il momento anche per fare dell'altro, confessa Federica, che ha deciso di spostare tutto in avanti proprio perché quel momento non è ancora arrivato.